Si era inoltrata nel bosco in cerca di funghi, senza più riuscire a orientarsi, mentre il buio intanto calava e la temperatura scendeva. Paura ieri sera sul pizzoc per una settantenne di ormelle che non ha più fatto rientro a dare l'allarme al suo 118, alle 20, il marito. La coppia era arrivata sulla strada del Taffarel, poi lei si era inoltrata nel bosco mentre il marito l'aspettava vicino alla macchina. Quando però la donna non è ritornata e al telefono cellulare non rispondeva per la totale assenza di copertura, l'uomo ha chiesto aiuto. Sul posto si sono portate le squadre del soccorso alpino, delle prealpi trevigiane e dell'Alpago, che hanno iniziato a perlustrare i sentieri finché verso le 22. La settantenne, che smarrita la direzione per tornare alla macchina aveva continuato a camminare attraversando la piana del consiglio, era riuscita a raggiungere località Campon e una casa abitata. Lì il proprietario ha richiamato l'attenzione di un soccorritore di passaggio e la pensionata è stata riaccompagnata dal marito. Grazie. 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 Grazie.